Presidente, se una rana si tuffa in una pentola d'acqua bollente salta fuori subito perché avverte il pericolo, ma se si tuffa in una pentola d'acqua tiepida portata lentamente a ebollizione rimane lì anche se la temperatura continua a salire e alla fine muore bollita. Il sistema nervoso sociale della nostra società collettivo è come quello della rana, serve una scossa improvvisa perché ci rendiamo conto del pericolo, se invece ci sembra graduale anche se arriva velocemente restiamo seduti senza reagire. Avrete riconosciuto, qualcuno avrà riconosciuto in queste parole una citazione di Al Gore, uno politico statunitense che negli ultimi anni è stato un po' il riferimento anche per quanto riguarda le politiche del cambiamento climatico. Ebbene la Lombardia per anni ha fatto la figura della rana. Perché? Perché per anni, e io mi rallegro che oggi in quest'aula sia arrivato il tema del cambiamento climatico, perché per anni, fino almeno a 3-4 anni fa, in Lombardia abbiamo vissuto una fase negazionista. Cioè sostanzialmente si faceva tutto come se il cambiamento climatico non esistesse. Eppure i numeri, alcuni li ha citati nel suo bel intervento l'assessore Cattaneo, ci portano a dire che questo è uno dei temi fondamentali per la nostra politica contemporanea. In Lombardia ce ne siamo dimenticati per anni, adesso ci stiamo svegliando. Perché il problema è che quei numeri dell'incidenza del riscaldamento globale anche sul nostro paese, per aree come la Lombardia purtroppo hanno un'incidenza doppia. Cioè quei cambiamenti in aree specifiche come quella della Lombardia e della pianura padana, quei numeri vengono amplificati ulteriormente. Questo dice come è davvero un tema quello che abbiamo chiesto e per fortuna ottenuto di trattare oggi determinante per noi e per il nostro futuro. Come spesso accade poi, in epoche di profonde crisi che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo non è certo. Se guardiamo in modo superficiale al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, sembra che le cose che non siano poi tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l'essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi, cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se nulla fosse. Altra citazione, laudato sì Papa Francesco, uno dei documenti che negli ultimi anni hanno in maniera più radicale e efficace affrontato il tema del cambiamento climatico. Noi rischiamo di far finta come se nulla fosse, di andare avanti in una nostra convinzione che i tempi arriveranno, ma non sono oggi, i tempi veri per il cambiamento. Giustamente l'assessore Cattaneo parlava di diversi step, 2030-2050. In realtà il 2030 è considerato a livello internazionale il breve termine, il medio termine è il 50 e il lungo termine è il 2100. Noi oggi dobbiamo chiederci che cosa accadrà in virtù di quello che scegliamo noi oggi nel 2100. E la transizione economica è fondamentale, ed è una transizione economica che deve basarsi su basse emissioni di carbonio. Qualcosa accennava nel suo intervento l'assessore Cattaneo, perché quel qualcosa accada sono oggi necessarie alcune decisioni. E allora noi consideriamo molto debola la risoluzione che è uscita dalla sesta commissione. Qualche elemento in più è emerso dall'intervento dell'assessore Cattaneo e noi con alcuni emendamenti chiediamo che quegli elementi entrino all'interno della risoluzione. Ad esempio il piano regionale clima e energia che scade nel 2020 vogliamo che sia posto come vincolo all'interno della risoluzione l'approvazione già entro il 2020 di quel piano regionale clima e energia. Perché quella scadenza deve per noi essere un obbligo dal punto di vista del percorso da fare nei prossimi mesi. Prima richiesta esplicita, mancando la quale è una risoluzione che serve davvero a poco. E poi seconda richiesta, riorientare e scriverlo chiaramente all'interno della risoluzione tutte le politiche di settore, dei vari macro settori della nostra regione, difesa del suolo e risorse idriche, mobilità e qualità dell'aria, agricoltura e biodiversità, edilizia ed energia, industria, economia circolare e rifiuti. Tutte queste politiche devono rispondere a questo tentativo di andare verso una economia a basse emissioni di carbonio. Scriviamolo e scriviamolo in maniera vincolante. Terzo elemento è quello che citava in conclusione l'assessore, ovvero sollecitiamo esplicitamente il governo nell'ambito della candidatura dell'Italia alla COP26 per far sì che qui in Lombardia sia la sede, perché è qui che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio può diventare una realtà, a patto che concretamente lo vogliamo. Scriviamolo chiaramente e chiediamolo in maniera esplicita a nome di tutti al nostro governo. È da lì che possiamo e dobbiamo ripartire. E dobbiamo farlo con coraggio, dobbiamo farlo con consapevolezza che non è utile dire agli altri, ah ma state esagerando, andate avanti da soli e cose del genere. Il coraggio chiede a questa amministrazione regionale non solo di sostenere quello che stanno facendo altri, segnatamente il Comune di Milano, ma di sollecitare perché lo facciano tutti e non semplicemente dire no ma calmi, non correte troppo, non andate troppo avanti. Il coraggio oggi passa anche da questo, da lanciare con coraggio delle proposte. E chiudo con un'immagine, un'immagine che poi è una cosa molto molto concreta. Sapete cos'è questo? Questo è un seme di baobab. Baobab è uno degli alberi assieme alla sequoia più grandi del mondo. Questo seme piccolissimo nel 2100 probabilmente potrebbe essere un bel albero di baobab che magari se va avanti così il cambiamento climatico crescerà anche alle nostre latitudini a patto di trovare spazio. Ebbene perché questo seme di baobab, che si può anche mangiare tra l'altro, perché non è proprio male, possa diventare quello che ha in potenza, dobbiamo piantarlo, piantarlo e seminarlo e irrigarlo e curarlo oggi. Se non lo facciamo oggi, questo seme nel 2100 sarà ormai fossile probabilmente. Se invece oggi ci impegniamo a piantarlo, irrigarlo e quant'altro, questo seme diventerà un vero baobab e con esso potrà davvero dare una prospettiva a chi vivrà nel 2100 e la cui vita dipende da noi oggi.